La rivoluzione digitale arriva anche in edicola. Grazie all'app Tinaba è possibile acquistare un quotidiano, un settimanale, pagando l'edicolante con lo smartphone. Tutto questo grazie all'accordo firmato da Tinaba, l'app che permette di trasferire il denaro ed effettuare pagamenti senza alcun costo di commissione, e Snag Milano, sindacato provinciale autonomo giornalai. La sperimentazione parte appunto da Milano. L'obiettivo è creare l'edicola del futuro, grazie a strumenti in grado di migliorare la user experience del cliente, come conferma il presidente di Snag Milano, Alessandro Rosa. Il fatto che ci sia un mondo digitale che creda a noi, che creda a questo nostro settore, ci vede una potenzialità, per noi per tutto è motivo di orgoglio. Secondo vuol dire anche rinascere e magari restituire un nuovo soggetto commerciale nei prossimi anni. Le edicole sono da sempre l'avamposto dell'informazione tradizionale e per uscire dal momento di crisi bisogna percorrere nuove strade, arrivando alla completa congiunzione tra digitale e fisico, come spiega il fondatore di Tinaba, Matteo Arpe. Permette l'introduzione di strumenti che in edicola non potevano essere fatti, che forse potranno incentivare anche la maggior lettura dei giornali, che si rivolge soprattutto ai giovani, offrendo a un mondo che è fatto da 30.000 edicole, uno strumento gratuito, immediato, perché non ci sono cose di transazione, e che permette di offrire anche un'esperienza nuova. Il portafoglio digitale dell'acquirente e quello dell'edicolante entreranno in comunicazione in un modo immediato e sicuro e con un solo tap sullo smartphone concluderanno il pagamento.